Signor Loredo, cosa riguarda Cloud Digim Open RAN e cosa riguarda Spirend in questo contesto? La cloudificazione è qualcosa che è arrivato e è qui, quindi lo vediamo ogni giorno. C'è una grande discussione tra la cloud privata e la cloud pubblica, ma non c'è una discussione su se è cloud o non, quindi sarà cloud in una forma o in un'altra. La cloud è una cosa costruita per i operatori e per i provideri, quindi è tutto ciò che parlano di trasferire tutto in la cloud pubblica, che sono i Amazon, i Microsoft Azure, i Google Cloud, eccetera. C'è quanto riguarda sicure che la cloud pubblica è sicure? È una cosa che prendiamo a Spirend at heart, quindi abbiamo una soluzione molto forte per testare la sicurezza. e abbiamo visto, con i diversi clienti, che ci sono molte problemi in sicurezza. Quindi stiamo testando, stiamo testando tutti i 3GPP, tutti i IETF standardi, e stiamo trovando ogni volta che ci sono i clienti, alcuni errori, alcuni errori, alcuni errori, alcuni errori. Questo è qualcosa di molto importante, ma non importa se, ma non importa quando questo succede, è che ci sono stati appena, gli servizi servizi, hanno bisogno di essere preparati. E questo è il motivo per togiamo a spirendo. Chautem.